In collaborazione con Glam Vision e Ka Fakli. Terrore in Val Sugana, tre cani Amstaff Pitbull aggrediscono il proprietario di una stalla a Tezze e sbranano diversi conili. Difficile operazione dei vigili del fuoco, attaccati a loro volta. Paniere tricolore, avvio a rilento in Trentino, Sight e Poli. Bene l'iniziativa del governo, ma puntiamo già su Carrelli a presto scontato. Truffa del falso incidente, raffiche di segnalazioni nelle ultime ore in diverse zone del Trentino. Le porte dell'ordine, massima attenzione, presi di mira gli anziani. Peggio dell'estate 23, solo quella del 22, persa una superficie di ghiaccio pari a tre campi da calcio. Si è aperta una grotta glaciale con un laghetto sottostante. C'è l'ipotesi di omicidio stradale plurimo nel fascicolo d'inchiesta aperto dalla Procura di Venezia, per il momento senza indagati, sul disastro del bus pieno di turisti, precipitato da un cavalcavia a Mestre con 21 vittime. Richiedi al CAFACLI i tuoi indicatori ISEE e ICEF e ottieni le agevolazioni a cui hai diritto. Tariffe ridotte sulla mensa scolastica o sulle tasse universitarie. La casa ITEA o un contributo sul canone d'affitto. L'assegno unico provinciale e nazionale e i buoni di servizio per i figli. Sconti in bolletta su luce e gas e molto altro ancora. Scegli la guida giusta. Scegli CAFACLI. Scegli CAFACLI.